Dopo due mesi di transenne, via San Decenzio torna a riaprirsi al traffico veicolare. Il comune di Pesaro ha infatti deciso di intervenire con le proprie forze per riaprire al transito una via di collegamento cruciale chiusa dallo scorso 7 ottobre in seguito al distaccamento di piastrelle e pannelli dall'ammalorata parete laterale del Tribunale. Un comune che, va precisato, non era tenuto a intervenire su un'area, quella del Tribunale, di totale competenza ministeriale. Ma davanti ad una situazione di disagio evidente, trascinato dal ripetersi di posticipazioni e rinvio di interventi statali, agisce dunque per attenuare le criticità della zona. Competenze totalmente del Ministero che ha fatto un bando per la riqualificazione del Tribunale, delle parti ammalorate del Tribunale. La gara è stata affidata, il contratto è stato firmato e l'ha dita 300 giorni per fare il lavoro. Noi speravamo, dall'incontro che avevamo avuto qualche settimana fa, che provvedessero alla messa in sicurezza anche temporanea per riaprire la strada, ma ancora non è stato fatto, tant'è che domani mattina, quindi già da venerdì abbiamo deciso di intervenire con le nostre forze, quindi con il centro operativo comunale per cercare di limitare il disagio. L'apriremo già penso da sabato mattina, l'apertura sarà in direzione centro-centro, quindi dal parcheggio del cimitero direzione piazzale Carducci, quindi per le auto e ovviamente continuerà ad essere aperto per i pedoni. È un disagio importante, per questo abbiamo deciso di metterci del nostro e di giocarci la carta per riaprirlo per le feste. Poi una volta terminate le feste la dita ha assicurato che inizierà i lavori veri e propri e a quel punto la situazione poi nel giro di qualche tempo ritornerà alla normalità.